Per il secondo anno consecutivo, nel 2018 era con l'assessorato all'istruzione e formazione professionale, la Regione Marche sarà presente con un proprio spazio espositivo e una serie di eventi di notevole spessore programmati tutti i giorni al meeting di Rimini in programma da domenica 18 a sabato 24 agosto. A spiegarne le ragioni è stata, nel corso di una conferenza stampa organizzata in Regione, l'assessora alle attività produttive Manuela Bora. Quest'anno la Regione Marche vuole essere di nuovo presente al meeting, visto i risultati molto buoni l'anno scorso, per raccontare come una Regione colpita dal sisma sia stata in grado di ripensare un nuovo modello economico ma anche sociale con uno sguardo particolare rivolto all'innovazione. Le giornate saranno strutturate in questo modo, il pomeriggio sarà dedicato proprio ai sindaci, ai sindaci del cratere, che racconteranno anche i tanti progetti che sono stati attuati nel corso di questi mesi e la mattinata invece è rivolta alle imprese, alle imprese che ce l'hanno fatta, che ce l'hanno fatta grazie soprattutto ai fondi europei. Ci sono progetti molto interessanti, due temi, uno appunto quello delle imprese, l'altro invece rivolto più all'aspetto sociale, che tanto sta a cuore a questa giunta, che ha pensato a un bando che ha avuto grandissimo successo rivolto alle imprese sociali, che ha avuto come obiettivo quello di migliorare i servizi che vengono erogati alla popolazione, in particolar modo a quella più anziana. Rinascere insieme con la forza delle idee e la concretezza dell'esperienza è lo slogan che accoglierà i visitatori dello stand delle Marche al Meeting. La regione sarà presente al padiglione D3, quello dell'innovazione, con un proprio spazio dedicato, con due percorsi che guideranno i visitatori, uno concentrato sul sociale e sulla solidarietà, l'altro focalizzato sull'ambito industriale e commerciale. È un obiettivo ambizioso, ma è un obiettivo che questa regione, grazie anche alla concertazione con l'associazione di categorie, è riuscita a centrare a pieno. Perché proprio il Meeting? Il Meeting perché comunque è una vetrina importante a livello nazionale, non solo, e perché, vista la partecipazione dell'anno scorso, sia i ragazzi ma anche le imprese, ci hanno dato dei riscontri molto positivi. Quindi ci hanno invitato a continuare in questa direzione, per cui, insomma, è giusto cogliere tutte le opportunità che ci vengono offerte. Ogni giorno, presso lo stand della regione, verranno organizzati incontri su varie tematiche. In questi incontri verranno illustrati i progetti finanziati con i bandi da poco conclusi, dedicati agli investimenti produttivi, al Made in Italy e alle imprese sociali che operano a favore delle fasce deboli dei territori del sisma. Alla conferenza stampa hanno partecipato anche Stefania Bussoletti, dirigente innovazione, ricerca e competitività della regione Marche, e Eugenio Andreatta, portavoce del Meeting di Rimini, giunto quest'anno al quarantesimo anno. Il titolo di questa edizione è Nacque il tuo nome da ciò che fissavi, è una frase di Carlo Wojtyla, una poesia giovanile di Carlo Wojtyla, che ci invita proprio a guardare con attenzione la realtà, a imparare della realtà e farsi condizionare da tutti gli stimoli che la realtà ci offre. Quindi il Meeting è un luogo frequentato da diverse centinaia di migliaia di persone. Quest'anno abbiamo 200 incontri con 500 relatori, una ventina di mostri, una ventina di spettacoli ed è un luogo in cui lasciarsi direi proprio influenzare e creativamente proprio ispirare dalle suggestioni che ci vengono dalla realtà. Una decina le regioni presenti al Meeting in diverse forme e maniere in un evento che solo nell'ultimo anno ha portato circa 800.000 persone. La regione Marche non è l'unica regione italiana presente al Meeting, sono nove regioni, ognuna ha una sua caratteristica diversa, alcune gestiscono stand, alcune gestiscono punti ristorativi, propongono incontri. La regione Marche ha una caratteristica molto particolare che ha voluto portare tutte le realtà del territorio, farle dialogare, offrire un tema specifico che quest'anno è soprattutto l'innovazione ma anche la ripartenza dopo il sisma e ha veramente portato la società civile marchigiana al Meeting e se voi vedete il programma della regione Marche al Meeting è di fatto un piccolo Meeting nel Meeting, ha una ricchezza di relatori, di temi, di dibattiti che penso trovi a Rimini proprio il contesto giusto. La regione parteciperà anche al dibattito del Meeting con due sessioni plenarie inserite nel programma ufficiale. Mercoledì 21 agosto alle 17.30 si parlerà di innovazione e talenti con l'assessora Bora e altri ospiti. Venerdì 23 agosto dalle 17 il dibattito sarà dedicato a dopo la tragedia tra innovazione e ripartenza con protagonisti istituzionali e la presentazione della cittadella delle attività produttive di Arquata del Tronto. Altro appuntamento da sottolineare è il flash mob di giovedì 22 agosto ore 16.30 per celebrare i 200 anni dell'infinito di Giacomo Leopardi.